zona borgo, casa abbinata, completamente ristrutturata con cappotte e pannelli solari due camere da letto, due bagni, ampia taverna, zona lavanderia, garage, in una strada chiusa beh, cosa ti occorre di più? ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa in vendita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri ci vediamo in visita